Benvenuti, cari follower. Un avvertimento molto severo e urgente in Italia a partire da domani, venerdì 7 giugno 2024, per un periodo di 5 giorni interi. Ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticate di supportarci premendo il pulsante. Mi piace per questo video e di condividere questo avviso con quanti più italiani possibile. Grazie. Quindi il modello europeo lancia un allarme rosso scuro per le regioni del centro e del sud Italia. A partire da domani, venerdì 7 giugno, almeno fino al 13 giugno, si rischia un aumento significativo e record delle temperature. Ciò è dovuto all'arrivo in Italia di aria molto calda proveniente dal continente africano. Le aspettative indicano il ritorno dell'anticiclone africano sull'Italia e questa volta le temperature potrebbero superare i 40 gradi all'ombra, soprattutto al sud. Le temperature saliranno gradualmente a partire da domani, venerdì, e aumenteranno ulteriormente sabato e domenica 8 e 9 giugno. Si consiglia quindi agli anziani di andare al mare, cioè in casa, ed evitare l'esposizione diretta ai raggi solari, soprattutto nel periodo mezzogiorno perché le temperature aumenteranno notevolmente e da record.